arrivo, controllo, prendo un whisky e arrivo il gramma del suolo ci fa pattugliare l'intera città hai pensato in un bar da schivare i primattili che ti attimano? devono pure tirarsi il collo che c'è guardami su youtube così magari lo vedi mi viene l'omino e c'è la personalizzazione mi dici in basso a destra c'è tre quadratini in basso a destra ce ne ho quattro quadratini quattro si non c'è niente però vai su uno lì sul primo devi metterti i pantaloni no c'è scritto seleziona tutti gli oggetti di tipo comune te ti vesti vedi per esempio io ho le scarpe se ce la fai col telefono collegati con youtube ti faccio vedere anch'io per esempio io ho le scarpe e i pantaloni io per esempio mi metto questi pantaloni qui che mi danno una armatura di 49 ma dove è scritto? c'è scritto livello 2 armatura 58 ecco io c'ho 51 è quello man mano che combatti e tu siamo all'inizio eh gabri non ci abbiamo loro io per esempio ho una pistola e ho un fucile si vai giù giù no no lì destra no destra 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 lì figiali quello lì che è seleziona rapida oggetti seleziona tutti gli oggetti tipo con uno seleziona eh ma non ce l'abbiamo vedi non ce l'abbiamo seleziona gli oggetti seleziona ah questa qui jamie sarebbe l'affarino per quando c'hai tante armi no quando c'hai tanti equipaggiamenti questa sarebbe una selezione rapida te te li metti qui e ti vesti come ti pare però ora che magari siamo all'inizio non si vede non ci abbiamo nulla ci sei? ci sei? capri? 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 si? proviamo a fare qualche missione vai aspetta tutte lì eh? lì qua ok 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 allora ok poi io sono ok è qui sotto ah ecco Ehi, Shira, sono pronto a rintracciare Jakub. Chi diavolo sono gli stronzi? Farabutti, spacciatori e trafficanti di bambini si fanno chiamare i Segugi. Credimi, non mancheranno a nessuno se finiranno in una sacca da morto. Perché diamine non avete mai fatto niente a riguardo? Onettamente, perché il loro mercato nero tiene alto l'umore dei soldati. Almeno non si mangiano i loro stessi figli come fanno i ribelli che combattiamo. Già, hanno incontrati alcuni, poco simpatici. Puoi invitare gli amici della lobby o del menu di gioco. Puoi usare la postazione di matchmaking nel campo, cercare una squadra. Ok, perfetto. Quindi adesso possiamo invitare anche gli amici. Vedi, puoi usare le postazioni di matchmaking nel campo per cercare una squadra. Se la tua private si va a me l'ha messa chiusa. La mia? La mia? Perché? Perché? Perché se no ti si infila tutta la gente quando gioiavi. È come classificazione privata o no. E ritrovo una squadra. Allora, aspetta. Allora, genere il tuo codice. Me lo mando a Rosario, andiamo un po' a sera. Se non è già uscito. Un è già uscito. Ah, ecco come si fa. Come? Dimmelo se, eh. Dimmelo se, eh. Io pigio quello che... LS. Sì. Il nottolino. Vedi, in basso a destra c'è... Anch'io uso... Cioè, anch'io lo gioco, uso il joystick. Io l'ho messa chiusa. Ma dove l'hai messo? Su l'impostazione? No. Sei andato a quella macchinetta lì? Sì. Eh, ti dà la squadra che siamo io e te? Sì. Sì. In basso a destra c'è scritto... Privacy. Privacy. Eh. Ok, LS mi dice. Se la chiude. Privacy è scritto... Privacy partita chiuso. LS è il tasto sopra, no? Se non ho sbaglio. È quello che muovi, che ti... Come lo chiami? Sì. Il pipino qui. Sì, sì, sì. Il perno che muovi il domino. Privacy partita chiuso. Perfetto. L'ho chiuso anch'io. Però se mandi un invito a un tuo amico, dovrebbe uscirti. Sì. Cioè, stai... Stai... Lì un attimo, provo. Dammi tre minuti. Aspettiamo il rosa, Jamie. Aspettiamo un secondo. Ma c'è? Sì, sì. Sta provando, direi. Infatti mi sto mandando anche... Non mi vedi, WhatsApp... Vado, vado. Mo... Prova a mandarli ora, genera il codice. Sarà meglio che lo faccio io. Gliel'ho mandato, eh. Hai generato il codice? Sì. Ho generato il codice. Riprova anche te, magari. Sono qui anche, mi vedi? Mi vedi. Genere il tuo codice. Perché tutte le volte che lo generi, però, è diverso, capito? Eh, ho. Ad esempio, ora è questo qui. Proviamo a mandarli ora. Questo è buono. Boccio, vabbè, quando ci sei, dimmelo che te lo mando. Perché ogni volta che lo creo, cambia. Perché ogni volta che lo creo... Qui che c'è, c'è... Ah, qui c'è. Vedi, geni, vieni qua. Aspetta che ho preso. No, ma c'è un botto d'armi, via. Vieni qui dove sono io. Dove sono io. Aspetta che ho trovato un altro parente. Allora, il rosa c'è. Jamie, vieni qua. Voglio farvi vedere no, prima di invitare il rosa. Qui, 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 qui. Questo qui dovrebbe essere un viaggio rapido. Ok. Ti è la mente. Ora invitiamo il rosa. Mi sono, vai, mi sono, vai. Te ne rimando un altro, così sto qui. Te ne rimando un altro, così sto qui. Grazie. Speriamo che entri. Un po' in diritto. Gabri, si sai? Si. Niente. Provo mandarlo io? Mándalo a te. Me l'hai mandato? Me l'hai mandato. Eh, bello genero. Vai. Ne lo mandi te? Si. Vai. Non è uno zero, è una O quella lì, eh. O uno zero? È una O. No. Scrivilo che è una O. Gemi, ne l'hai mandato. Gemi, ne l'hai mandato? Gemi, ne l'hai mandato. Che dice? Non lì... non lì va. Aspetta, ne lo mando io. Aspetta, ne lo mando io. L'ultima volta. Anche le vado. L'ultima volta. L'ultima volta. Te lo mando io. indietro ma io ho comprato delle armi genera il tuo codice di gioco perfetto romando così f6 o dovrebbe essere però comunque ci sta gemmi che lui non avendo comprato il giochino non ci faccio giocare come non la compro? no lui c'ha una demo e allora un giorno no non lo so non ho idea perché io l'ho comprato la demo arriva fino a un certo punto se noi siamo più avanti come fa? ma lui è arrivato fino a noi non va ma non può andare se c'ha la demo rosa guardaci su youtube probabilmente è perché te c'hai la demo capito? lui si è comprato budello un fame di caino ladro maledetto non lo so a questo punto qui mi viene in mente che sia la demo non lo so Grazie a tutti. Come ti imbomba l'audio. Come ti imbomba l'audio. Gabri ci sei? Sì. Andiamo, proviamo a fare qualche partita. Come ti sei. Come ti sei. E sta fermo lì. Fermo lì. Ho la schiena a pezzi. Se pigi la cosa in su ti dici la strana la fa, eh? Sì, l'ho visto. Sei nel posto sbagliato. Che ha fatto il vecchio? Ha fatto incazzare il capo. Ed è amico del tram maresciare. Per questo il capo ci ha promesso il doppio della paga. Comunque un grosso rischio. Meglio farla finire. Lo soppureremo ancora un po' E poi lo lasceremo nel vento. Storia. Praticamente Loro sono scappati dalla terra che era quasi distrutta. Ho trovato questo pianeta che sembrava a modo. Ma in realtà ci sono queste tempeste. Sì. E poi ci dovrebbe essere la torre della liberazione. Perché lui la dovrebbe libertare in mano. Sì. Com'è buono la Froigo. Sto cercando Jakub Dabrowski. Vattene. Senti merdina. Proprio qui c'è un fucile puntato sul tuo... Ah! Bello. Che bisogna fare? Che bisogna fare? Ah, bisogna ammazzare. C'è PGLB! Ci fa l'arma di prota. Sì. Quando prendi fuo devi fare la capriola che te la leva. C'era un trucco che ti diceva. Gemi. Quando prendi fuo, che ti danno fuo, devi fare la capriola con la B. Con la B e... ... 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 mentre non è facile quando l'ammazzo però ce n'è tanti bello il bomba se te premi lb e rb insieme ti fa una super mossa si stavo cercando di capir come come mai non me la faceva è tipo l'abilità di griff c'è un tempo per i caricati povera quanto c'è ora aiuto aiuto no no aiuto ma che è un bello dove sono dio bestia a un bello c'è c'è giusto chi è che ci spara da via spara da via vai vai luci salvato no se ti ha inficiata la x ti li ha inficiata la x ti li ha inficiata la x però meglio si che si no è oh oh via di li madonna ma ma come oh aiuto ha ammazzato a me che si no è dio merda allora la missione è a scendere il magazzino dei seguchi e salva jacob presto presto il fa la capriola è andata capriola a 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 dove messo a campo o a magazzino campo viaggiare l'ho messo anch'io 15 secondi riftown no bisogna capirle questo dinamico qui non ci io prima ho aperto una cassa c'era 2000 armi l'ho preso tutte però mi diceva che non le potevo usare ma qui siamo dove si era prima o sbaglio? si ecco vedi aspetta stai lì eh vieni con me vieni vai vai qua vai qui questa cassa qui eh entrasci dentro non c'è nulla no scorri tutta a destra ma io sento un cassino e vota c'è non c'è niente io non c'è nulla in questa cassa che è ma stai guardando un film in sottofondo no c'è luciana che guarda un film ovviamente è lento allora guarda un po' mi son messo il ciasco lì vedi anche se te lo son guarda guarda ora mi si è aperto anche quell'altro slot ehi oh ho capito che è il ciasco lì quello lì ti fa il vestito mi sto sudando come un porco lo dividerò con te vabbè bisogna da qua andiamo chi sei? qui lì? no io metto la freccia qui io sa che abbiamo fatto sei dietro di me? si ma lui qui chi è? lui lì è quello che no perché non vuole perché può fare quel cazzo che gli pare mai stato così felice di vedere un volto familiare non hai nemmeno una ruga in faccia lui invece si amico mio quello nel corridoio era Seth che cosa ci fa qui? ignora le nostre richieste d'aiuto pensavo fosse con voi ah Seth lui non sta con nessuno i ribelli hanno delle mutazioni sono un vero incubo siamo fortunati e se sanno ogni tanto viene a combattere ma solo quando fa comodo al suo piano qualunque esso sia ehi incidenti ma che tu non hai la minima idea di che inferno sia Outraider pensavamo di essere sfuggiti all'apocalisse pensavamo di poter iniziare da capo ma ci stavamo sbagliando io mi sbagliavo Shira sai perché sono al comando? perché io sono l'unico ufficiale rimasto in vita i ribelli che sono le nostre porte sono feroci sadici e ci hanno circondati qui scarseggiano cibi e munizioni e se non ci uccideranno quei pazzi allora lo farà questo pianeta la risveglia vero? quel fungo nero nella foresta non abbiamo mai trovato una cura mentre le montagne sono sono piene di abomini e le tempeste dell'anomalia sono ogni anno più intense purtroppo non ci resta molto tempo se non troviamo il modo di lasciare questa valle se non succede un miracolo questo quest'ultimo brandello di umanità sarà finito Shira la tempesta ha fatto a pezzi Cadbert ma non me perché? perché ho questa... mutazione e chi può dirlo? quando arrivano le tempeste c'è qualcuno che viene fatto a pezzi qualcuno diventa a poa e pochi fanno ritorno fottutamente immortali l'anomalia non ha assolutamente senso è in grado di sconvolgere le leggi della natura e muta tutto quello che tocca all'inizio i migliori scienziati dell'ECA hanno cercato di capire le tempeste di domarle nessuno è sopravvissuto si è andata davvero bene o forse non proprio adesso l'importante è che tu sia dalla nostra parte la nostra unica linea di rifornimento è bloccata da una mutazione immune alle armi vicino al vecchio impianto solare Seth non ha manifestato interesse ad aiutarci ma ora ci sei tu giusto perché no? forse riesco a dare all'umanità un altro giorno tenente che cosa è successo? l'intero fronte è crollato sembrava un terremoto temo che abbiamo perso la nostra prima linea difensiva sto arrivando forza 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 ehi nel caso sia l'ultima occasione ho provato a cercarti ma è finita male siamo dovuti scappare però io volevo non importa io sono vivo ho rischiato di morire altre volte se non fosse stato per Tan e Reshila adesso devo sdebitarmi Jacopo mi mancavi è bello riaverti tra noi adesso va a fare il culo a quella mutazione così potremmo tornare a occuparci di questa dannata guerra bene allora Outrider fa attenzione là fuori è orribile vedrò che posso fare però Shira ho ancora trent'anni di domande da farti allora dopo se ritiri ancora torna da me allora bloccate nuove emisioni secondarie man mano che pregredisci nella storia principale ti renderanno disponibili nuove emisioni secondarie cerca minimappa e sulla mappa del mondo nuove icone delle emisioni chissà che abbiamo fatto nelle nostre vite passate per meritarci un'esercizio che lo so fessi mi sono andati giù qui c'è un sacco di gente di qua qua ma dov'è il punto esclamativo probabilmente c'è delle emisioni secondarie bravo vai lì vai lì vieni osserva le meraviglie che vendo un'altra volta questa è una seconda oggi non è la giornata giusta ah un vento amaro soffia per noi vieni vorresti bere un taccato lì è un'emmullatura sono messo secondarie questi dove appunto si togli dove c'è il pallino giallo è la primaria mi dice di andare di qua mi dice di andare di qua ci sei? si esamina la mia merce è un rispettabile qualcosa attiverà la tua attenzione vieni osserva le meraviglie un'altra volta è accettato te in prima linea vedo mo oh ignori presti dovuto a poi mutazione che cosa cambia mi stava per mo ho soltanto sei gli ordini di ma te sei da quello che ti offre il te no è incendiato di te ecco i ribelli hanno scavato sotto le mie truppe e hanno fatto saltare tutto il fronte se non sblocchiamo una linea di rifornimento siamo fregati bello non so se io metto la cosa mi ha capito un po' le dinamiche mi sembra che si sia sbloccato la bomba con te al suo fianco uscire aspetto di cambiare le sorti delle SIA di riaprire una linea di rifornimento bloccata grazie a tutti 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 Andate qua, bisogna seguire il pallino, qua, lo sapete qua, hai sbloccato un'abilità, si, guarda dove, si, una tre, non preoccuparti mi sto prendendo la strada, ho provato ad usarla ma mi dice che non mi posso unberzare, vai avanti te, vai, io ti prendo. giudice il pompa è forte maaa non usi il pompa te? ora c'è questo mardo lì ancora oh ah oh 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 ho pigiato la bomba ho pigiato eh bravo pigiato A, L, B e RB insieme pigiato 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 Grazie a tutti. Ah vedi è che hai messo quella bagliara lì e ti ci puoi spostare rapidamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, bravo. Sì, bravo. Sì, bravo. Sì, bravo. Sì, bravo. Sì, bravo. Sì. Sì. Sì, bravo. 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 Mar бо. Sì, bravo. Grazie.